Musica Venerdì 21 agosto, San Pio X. E' il 233esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 132 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 19, tramonta le 20 e 12. La luna si leva alle 12 e 51, tramonta le 23 e 18. Un decreto del Senato Veneto invita il capitano Damar Vittorio Cappello a portare a Venezia il capo di San Giorgio Martire, custodito dai greci nell'isola di Aegina. Il Senato raccomanda che la sacra reliquia sia ottenuta con la persuasione e le buone maniere, non con la violenza o con la truffa. Le previsioni per domani. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme e pomeridiana in prossimità dei rilievi. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature senza notevoli variazioni, ma con tendenza ad un lieve calo nei valori minimi ed è un leggero aumento in quelli massimi. Musica Musica Musica